Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati dagli studi del TG Noi per questa edizione del TG Giorno di oggi mercoledì 5 aprile 2023. Ci avviciniamo dunque alla Pasqua, 4 giorni, ma la notizia con cui apriamo questa edizione ci fa andare subito sul nostro sito dove leggiamo appalti pilotati nella raccolta dei rifiuti, 6 indagati, operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Leggiamo, poi su questa vicenda torneremo in modo più dettagliato nelle edizioni serali del TG Noi, 6 persone sono indagate nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza diretta dalla Procura di Lucca nel settore degli appalti pubblici su rifiuti. L'inchiesta ha visto coinvolta la partecipazione pubblica che si occupa di spazzamento e di igiene urbana, sistema ambiente e una spa di Firenze per la procedura di fornitura beni per un valore di oltre 6 milioni di euro. I fatti, ecco questo è importante sottolinearlo, risalgono al 2021 e quindi non riguardano l'attuale gestione di sistema ambiente. L'accusa è di tentata corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Poi potete leggere tutto l'articolo su questo, torneremo come dicevo nelle prossime edizioni del TG Noi. Apertura ufficiale poco fa, questa mattina, del cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul Sergio a Lucca che sarà curato dall'impresa Fincantieri. I tempi contrattuali fissati per la realizzazione sono di 480 giorni, quindi circa un anno e mezzo. La conferenza stampa di apertura si è svolta sul posto in via della Macchia, sul controargine della strada che costegge i campi sportivi dell'Acquedotto. Alla presenza del presidente della provincia Luca Menesini, dell'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, c'era anche il direttore dei lavori Pierluigi Saletti. L'opera attesa, molto attesa, andrà a modificare sostanzialmente la viabilità cittadina e vedrà un investimento di 27 milioni di euro. I tempi contrattuali, come dicevamo per la sua realizzazione, sono di 480 giorni. Ancora altre immagini invece che dovremmo vedere per parlare del fatto che, mentre appunto siamo in onda, sono ancora in corso le operazioni di bonifica degli ordigni. Ne avevamo parlato anche nel Tg di ieri, rinvenuti durante ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti durante gli scavi sull'Aurelia. Siamo a Varignano, un quartiere di Viareggio. Al momento sono circa 45 proiettili di artiglieria da 75 mm che sono stati trovati. Al lavoro gli artificieri del genio Pontieri di Piacenza. Il traffico lungo l'Aurelia, il Varignano, attualmente è interrotto. Anche su questo seguiteci perché torneremo nelle prossime edizioni. Parliamo di sanità. La Toscana attiverà un contenimento delle liste di attesa per prestazioni chirurgiche ed ambulatoriali con un piano straordinario per l'anno in corso, per questo 2023. Quanto prevede? Una delibera approvata dalla Giunta regionale. Ma in tal senso, sentiamo l'assessore regionale Bezzini. Il primo elemento è che noi attuiamo delle misure che sono consentite dal Mille Pro, che erano state fortemente richieste da tutte le regioni e che il governo alla fine ha definito. Con la possibilità di usare lo 0,3% del Fondo Sanitario Nazionale, sono circa 23 milioni di euro, in deroga ai tetti di spesa del personale, ai tetti di spesa del ricorso al privato convenzionato. Quindi, dopo l'approvazione di questa delibera, entro il mese di aprile, le aziende sanitarie dovranno definire piani specifici di contenimento delle liste di attesa per ogni ambito territoriale, usando una quota di questi 23 milioni di autorizzazione di spesa che nella delibera viene attribuita ad ogni singola azienda. Questa è la prima misura che dovrebbe consentire di contenere un po' il fenomeno delle liste di attesa, sia sul lato delle prestazioni ambulatoriali, sia su quello delle prestazioni legate alla diagnostica, sia per gli interventi chirurgici. L'altra delibera, invece, ha un carattere più strutturale e riguarda il modello organizzativo di governo della relazione tra la domanda e l'offerta di prestazioni. Per la quale viene definita un'architettura e, soprattutto, viene introdotta una figura che per ogni azienda avrà come compito esclusivo quello di monitorare l'equilibrio tra domanda e offerta di prestazioni e di intervenire qualora ci siano situazioni di criticità. A Via Aria, in un allevamento di Pietrasanta, sono subito prontamente scattate le misure sanitarie. I veterinari dell'ASL hanno confermato la presenza di un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di via del Padula a Pietrasanta. A seguito di questa segnalazione e del successivo decreto, l'amministrazione comunale ha messo in atto le misure restrittive, così come indicato dall'autorità sanitaria locale, per il contenimento e l'estinzione del virus. Nella fattispecie, l'istituzione di una zona di protezione di 21 giorni nel raggio di 3 km dall'allevamento in questione e di una zona di sorveglianza di 30 giorni in un raggio di 10 km dal medesimo. Gli allevamenti presenti nelle due aree saranno censiti, visitati da veterinari ASL per la verifica della documentazione e dello stato clinico dei volatili presenti e sottoposti a sorveglianza sierologica e virologica del pollame. Gli allevatori dovranno segnalare immediatamente all'autorità sanitaria l'aumento della mortalità o il calo significativo della produzione e tenere un registro dei visitatori da mettere a disposizione dell'ASL. In entrambe le zone sono inoltre vietate fiere, mostre ed esposizioni di pollame e altri volatili. Un progetto del Comune di Capannori per l'assistenza a distanza di tutti quegli anziani che vivono da soli. Controllare le condizioni degli anziani che vivono da soli tramite sensori e videocamere per poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza e prevenire l'insorgere di alcune patologie. Il Comune di Porcari ha presentato Salute Smart, progetto sperimentale di assistenza a distanza unico in provincia di Lucca e nella ASL Toscana Nord-Ovest. La parte tecnologica del progetto è a cura dell'azienda Pando che installerà sensori di presenza in movimento e piccole telecamere per verificare ad esempio se l'anziano quella mattina si è alzato dal letto oppure è caduto, ma anche per rilevare fughe di gas, allagamenti o principi di incendio. I dati saranno monitorati dalla Croce Verde di Porcari che potrà intervenire oppure mettersi in contatto con l'assistito. Per la ASL si tratta di un progetto prezioso per il miglioramento dell'assistenza sul territorio. Secondo me è un progetto pilota che potrà essere replicato in tutta la zona della Piana di Lucca ma forse anche della ASL Nord-Ovest perché comincia un lavoro che è il nostro obiettivo dei prossimi due o tre anni, cioè quello di contrastare la solitudine degli anziani, di prevenire le complicanze che portano alla non autosufficienza, quindi prevenire l'ingresso in RSA all'istituzionalizzazione. Il progetto Salute Smart è finanziato dal comune di Porcari con 70.000 euro per i primi tre anni e riguarderà all'inizio otto anziani del territorio, alcuni dei quali passano parte della loro giornata nel centro di urno. L'amministrazione Fornaciari, in caso di riscontro positivo, ha intenzione di sviluppare ulteriormente il progetto. Mi scuso per il lapsus precedente. Naturalmente il progetto, come avete ben potuto capire dal servizio del collega Conca, è del comune di Porcari e non del comune di Capannuri, come avevo erroneamente detto. Le mura di Lucca sono un monumento di cui forse gli stessi lucchesi spesso non si rendono conto della loro monumentale bellezza. Sono talmente belle e importanti che anche studenti dall'estero vengono a studiarle. Studenti svizzeri a Lucca per conoscere da vicino la storia delle mura urbane. 32 giovani dell'Università di Zurigo, accompagnati da alcuni docenti, hanno partecipato alla Casermetta San Frediano, sede dell'Associazione Istorica Lucenze, ad un seminario di studi sulle origini e la storia delle mura, con particolare riferimento agli aspetti prettamente strutturali e difensivi, nonché alla loro trasformazione da strumento difensivo in passeggiata uso civile arricchita da una verde alberatura. L'incontro si è articolato in due lezioni tenute dalla professoressa Carla Sodini, già docente di storia militare presso l'Università di Firenze, e da Mario Parenzi, presidente dell'Associazione Istorica Lucenze, realtà che oltre alla rievocazione storica svolge attività didattica sulla storia lucchese e che vuole sottolineare l'unicità del massimo monumento lucchese a livello continentale. Se noi le guardiamo come fortificazione, le mura sono un esempio di architettura moderna che per dimensioni e stato di conservazione è praticamente unico in Europa. Quindi presentarle sotto questo aspetto sicuramente le imprezio cisse tantissimo e può essere anche un ottimo volano per il turismo. Presenti anche alcuni figuranti, tra cui quelli delle milizie di montagna della Val di Lima, che in caso di necessità scendevano a Lucca per difendere la città. Ci sono alcuni figuranti in abito del 600, perché chiaramente l'ultima soluzione delle mura lucchesi sono quelle del 600, quindi sono gli abiti che c'erano a Lucca in 600. 31 anni fa era il 1992 l'assassinio da parte della mafia del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli. Gallicano, lui era originario proprio di quel paese, non lo ha dimenticato. Una commemorazione sentita e con larga partecipazione, quella svoltasi a Gallicano, a 31 anni dall'assassinio di Giuliano Guazzelli, il maresciallo dei carabinieri originario di Gallicano, ucciso in Sicilia dalla mafia il 4 aprile del 1992. La giornata si è aperta con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti, alla presenza, assieme al sindaco Davide Saisi, del prefetto di Lucca Francesco Esposito, dei familiari del maresciallo Guazzelli, tra cui il figlio Riccardo ed il fratello Luigi, del comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, colonnello Arturo Sessa. Dal sindaco e dal prefetto di Lucca parole sentite di ricordo del maresciallo Guazzelli e del suo esempio di massimo impegno al servizio dell'istituzione e della legalità, che deve essere oggi più che mai insegnamento e faro per tutti nella lotta alla mafia. Ad assistere alla breve ma significativa cerimonia anche il questore di Lucca Dario Sallustio, diversi sindaci rappresentanti dei comuni della valle, numerosi carabinieri della stazione di Gallicano e della compagnia di Castelnuovo al comando del capitano Biagio Oddo, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed anche i rappresentanti del presidio di Lucca di Libera, intitolato proprio a Guazzelli. Tra le iniziative della giornata anche un incontro con gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Gallicano svoltosi nell'auditorium della scuola, un dialogo tra i ragazzi con il figlio del maresciallo Guazzelli Riccardo e con le altre autorità intervenute. Virtuoso e bel canto sbarca a Berlino in quello che possiamo considerare uno dei tempi della musica europea. L'Italia è Lucca nel Tempio della Musica d'Europa con il concerto di Pasqua alla Fila Armonica di Berlino. Protagonista sarà appunto l'opera italiana con quattro giovani talenti solisti che si esibiranno sul palco della Sala Grande. I quattro cantanti lirici italiani sono stati selezionati appositamente per l'occasione da Virtuoso e bel canto, il festival lucchese che promuove la cultura della musica classica. L'evento è stato presentato a Palazzo Orsetti alla presenza tra gli altri dell'assessore alla cultura Mia Pisano, del direttore artistico di Virtuoso e bel canto Riccardo Cecchetti e della presidente dei lucchesi nel mondo Ilaria Del Bianco. Sul palco di Berlino, selezionati da Virtuoso e bel canto, ci saranno il tenore Vincenzo Spinelli, il baritono Luca Galli e due soprano, Marianna Mappa e la lucchese Maria Novella Malfatti. È un grandissimo onore per me essere stata selezionata dal maestro Riccardo Cecchetti dalla commissione qui a Lucca per rappresentare Berlino. Ho viaggiato tanto, sono stata ad Amsterdam, all'iricopera di Chicago e mi sono sempre portata con me la mia formazione che è prettamente musicale. Ho studiato otto anni violino con il maestro Alberto Bologni e per la prima volta per me è un grandissimo onore rappresentare Lucca e partire da Lucca con un gruppo di lucchesi e i miei colleghi bravissimi. Quindi in bocca al lupo a tutti e ci vediamo il 9 aprile a Berlino alla Filarmonica. Il titolo del concerto in calendario domenica 9 aprile a Berlino è La magia dell'opera italiana. I quattro cantanti del nostro paese interpreteranno Verdi, Puccini e altri autori con arie tratte da Aida, Rigoletto, La Traviata, La Bohème, Tosca e altre. E con virtuoso e bel canto si chiude la prima parte del Tg Giorno una breve pausa pubblicitaria poi ci ritroviamo con un'ampia pagina sportiva. Grazie a tutti!